Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, al microfono Natascia, alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne. Preghiera e vicinanza ai malati di tumore a quanti lottano contro il tumore ieri sera durante la liturgia eucaristica che Sua Eccellenza, Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, nella chiesa dello Spirito Santo a Pescara ha presieduto. Il presule, commentando il sogno avuto da San Giuseppe che preannunciava la nascita di Gesù, ha parlato della vicinanza di Dio a quanti soffrono e della lotta degli scienziati di tutti contro le malattie. Oltre tre anni di lavori, più di 5 milioni di euro spesi, un'area di 4.000 metri quadri, 2.000 dei quali destinati alle esposizioni, sono alcune delle cifre della nuova sede del Museo Nazionale dell'Abruzzo che aprirà i battenti oggi alle 11 nei locali restaurati dell'ex mattatoio comunale a Borgo Rivera, vicino alla fontana delle 99 Cannelle. Una sede provvisoria in attesa che venga ultimato il recupero di quella storica, ospitata fino al terremoto del 2009 in un'aula del Castello Cinquecentesco. Tutto questo all'Aquila. Dopo una sosta forzata dovuta ai problemi tecnici riscontrati sui mezzi comunali, sono ripresi a chieti gli interventi sulla pubblica illuminazione. Nell'ambito di tali lavori, entro oggi si avvierà la riparazione delle linee elettriche su strada Belvedere. Inoltre, nell'ambito dei nuovi interventi, l'amministrazione comunale ha disposto che vengano attivate le due torri faro poste ai lati dello stadio Angelini, in modo da consentire anche l'utilizzo notturno delle aree vicine all'impianto sportivo. Le operazioni di dragaggio del porto di Pescara hanno necessità di essere completate nella loro originaria formulazione di gara, che è stata giudicata nel 2014 alla Società di Malcontenta, in provincia di Venezia, per consentire il recupero di sicurezza e navigabilità del porto canale e della darsena commerciale. Lo precisa il vice sindaco di Pescara, del Vecchio, rispondendo all'esposto presentato da Mauro Febbo, consigliere regionale di Forza Italia. Sempre a Pescara è emanata un'ordinanza, la numero 661, sul proseguimento dei lavori sulla sponda destra del fiume relativi alla difesa idraulica lavori che proseguiranno fino al 21 gennaio, ferme restando le attuali prescrizioni per quanto riguarda la mobilità. SOS Teatro a Pescara lo lancia la sezione pescarese della Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni, Affari, che ha messo a confronto architetti ed esperti di scienze e sociali nel convegno sul tema Il Teatro e la città organizzato nel capoluogo adriatico. Dopo tanto dibattito, ha detto l'architetto Rosa Pesci Poletto, ancora oggi a Pescara non c'è un teatro. Quest'incontro vuole essere l'avvio di un processo di sensibilizzazione più ampia su un tema inascoltato, una questione che non riguarda solo la realizzazione o meno di una struttura, ma anche tutto il complesso della gestione, uno stimolo, ha sottolineato, per diffondere un messaggio di cultura e di recupero degli spazi. La Giunta Comunale di Monte Silvano ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione di una scuola dell'infanzia nei pressi di Via Sospiri. L'edificio, sviluppato su un unico livello, avrà un'estensione di circa 350 metri quadri, con tre aule, una mensa, alcuni locali di servizio come cucina, spogliatoio e bagni e uno spazio condiviso per attività di gioco e ricreative. Al suo esterno sorgerà un'ampia area dedicata al verde. La scuola, realizzata con un importo di 500 mila euro, sarà finanziata con l'utilizzo di circa 212 mila euro del mutuo iniziale di 224 mila euro acceso dall'Ente nel 2012 per completare Palazzo Baldoni. Circa 48 mila euro proverranno invece da una parte di mutuo per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La Giunta inoltre ha deciso di accendere un altro mutuo dell'importo di 240 mila euro. Il sindaco Francesco Maragno ha visitato alcune scuole di Monte Silvano per porgere gli auguri di un sereno Natale e di un ottimo anno nuovo. Il primo cittadino ha incontrato i dirigenti dell'Istituto Comprensivo Troiano Delfico, del liceo scientifico D'Ascanio e dell'Istituto Tecnico Alessandrini. Ho voluto portare di persona gli auguri a nome dell'amministrazione comunale, ha spiegato il sindaco, incontrando tutti i protagonisti del mondo della scuola. I dirigenti, i docenti, il personale ATA costituiscono il motore del mondo scolastico, ha detto ancora Maragno. Lunedì il sindaco completerà il giro degli altri istituti comprensivi della città. E sarà l'attore comico Federico Perrotta a presentare la serata senza mai arrendersi lunedì 21 alle 21 al Teatro Supercinema di Chieti. L'iniziativa, sostenuta dal Consiglio di Amministrazione del Teatro Marruccino, dal Comune di Chieti e dai Vigili del Fuoco, è a favore dell'Associazione Progetto Noemi Onlus, fondata dai genitori della bimba di Guardia Grele, affetta da atrofia muscolare e spinale, per sensibilizzare sul tema dei disagi vissuti dalle famiglie con disabili gravissimi da assistere. Oggi è sabato 19 dicembre e nella Diocesi di Teramo Atri si celebra la memoria di San Berardo Vescovo, patrono principale della città e della Diocesi, solennità Teramo e festa in Diocesi. La direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon onomastico a tutti gli ascoltatori che portano questo nome, buon anniversario di ordinazione sacerdotale a padre Mario Di Nuzio e buon compleanno a Don Domenico di Pietro Paolo che festeggia la ricorrenza oggi e al diacono Gino Orsini che la festeggerà domani. Siamo alle previsioni del tempo, oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo poco nuvoloso fino a metà mattino, sereno dalla tarda mattinata tutto il pomeriggio e cielo da nuvoloso a molto nuvoloso in serata con temperature da 9 a 12 gradi e 20 deboli e nelle zone interne cielo sereno con temperature da 7 a 11 gradi e 20 deboli. Domani si prevedono sulla costa cielo nuvoloso fino a metà mattino, sereno con foschia in tarda mattinata, sereno nelle ore centrali e nel primo pomeriggio, poco nuvoloso nel tardo pomeriggio e da sereno a nuvoloso con foschia in serata, temperature da 8 a 13 gradi e 20 deboli e nelle zone interne cielo sereno con temperature da 6 a 11 gradi e 20 deboli. Il mare è previsto poco mosso sia oggi che domani. Questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio alla microfono, Natasha alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, l'augurio di una buona giornata. Speranza in Blu